Consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, giunta municipale, cittadini e ricoltori di Cammarata, esponenti di solidarietà e partecipazione, fratelli d'Italia, uniti per difendere territorio e ambiente ed impedire ai tecnici della Regione Calabria di entrare nella discarica di Campolescia e iniziare i lavori per far conferire rifiuti alle province di Vibbo e Reggio Calabria. Io comprendo bene la situazione di Vibbo e Reggio e non è certamente questo essere contro Vibbo o Reggio, ma una discarica che non è in esercizio dal 2003, una discarica che tra le altre è di nostra proprietà, quindi non riesco a comprendere quello che ho contestato stamattina, trasmettendo gli atti anche al Prefetto per quanto riguarda la situazione, ma anche alla Procura della Repubblica, essendoci un procedimento in corso proprio sulla residua capacità di abbanco, entrare d'urgenza all'interno di casa d'altri, perché questa è casa della città di Cassovillari, la proprietà è del comune di Cassovillari per risolvere un loro problema. Sto difendendo un bene del comune di Cassovillari, sto difendendo l'ambiente, sto difendendo praticamente un obiettivo che noi abbiamo sempre avuto con un'amministrazione che è quello della chiusura. La Camarata è nel cuore del distretto agroalimentare di qualità di Sibari ed espressione di prodotti, immagine di specificità locali del comprensorio e dello stesso Made in Calabria, che offrono anche lavoro a tantissime capacità dedicate, le quali non si possono e non si devono mettere a rischio. È davvero una storia infinita e dopo vent'anni di lotte, di battaglie per impedire che questo diventi, questo posto magnifico diventi la spazzatura della Calabria, della Prigio di Cosenza e così via, ancora una volta, dopo che abbiamo dimostrato che lì ci sono delle truffe, degli imbrogli, c'è un problema di rispetto della legalità perché c'è un processo penale in corso che attiene proprio all'alterazione dolosa dei luoghi per cercare, peraltro senza riuscirci, di aumentare le capacità di abbanco della discarica. Ancora una volta ci dobbiamo scontrare con gente che ci vuole rubare i nostri diritti, che vuole aggredire il nostro territorio e la legalità. Una discarica, quella di Campolescia, chiusa dal 2003, inoltre sul sito, pende un procedimento penale in corso che ha ufficializzato la mancanza di capacità di abbanco. Questa è semplicemente un'aggressione al nostro territorio e noi non lo consentiremo. No alla riapertura della discarica anche da parte del Circolo di Fratelli d'Italia di Castrovillari. Senz'altro, anche perché è arrivato come un fulmano al cestereno, perché nell'ordinanza che c'era scritta da parte, a firma da parte del Presidente Santelli, si aspettava anche la pronuncia da parte del Tribunale. Il fatto di aver fatto questo blitz a noi ci lascia veramente interdetti. Noi difenderemo con tutte le forze il nostro territorio e soprattutto il nostro distretto agroalimentare. E in attesa di capire cosa succederà, il Sindaco di Castrovilla, Rimimmo Lopolito, è stato minacciato di denuncia dal responsabile del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria per interruzione di pubblico servizio. Io ho detto, secondo me, quello che voi state facendo è un abuso, ma se devo prendermi la denuncia per interruzione di pubblico servizio lo faccio perfettamente. Sto difendendo un bene del Comune di Castrovilla, sto difendendo l'ambiente, sto difendendo praticamente un obiettivo che noi abbiamo sempre avuto con un'amministrazione che è quello della chiusura. Noi abbiamo fatto i lavori di messa in sicurezza, anche rispetto a un aumento della capacità di abbanco se possibile. E su questo noi abbiamo ottenuto l'autorizzazione. Ma se oggi non c'è capacità di abbanco, oggi va semplicemente chiusa.